Ovviamente che si noterà la centralità della città. Vogliamo avere il carnevale più antico d'Italia ma anche quello più all'avanguardia. È l'obiettivo annunciato dal sindaco di Fano Massimo Seri durante la presentazione della fabbrica del carnevale. Il progetto che ha ottenuto 207 mila euro legati ai fonditi gli investimenti territoriali integrati. Questa mattina in sala giunta sono stati illustrati i tre progetti innovativi per la realizzazione di prototipi di nuovi carri allegorici. Il punto cardine del bando di innovazione filiera è stato quello di mettere in connessione le aziende del territorio con i maestri carristi. Una sinergia strategica che come sottolineato dal consigliere delegato Stefano Marchegiani permetterà di creare posti di lavoro, nuove ricerche e brevetti. Questo significa non interrompere ovviamente la tradizione perché il lavoro dei maestri carristi è impagabile e lo sarà sempre di più. Ma fornica degli strumenti in più ai maestri carristi che ci vengono dalle tecnologie applicate al carro. Quindi in termini di sostenibilità di materiali, sostenibilità dei colori, quindi green, il carro green, ma anche luci stroboscopiche, robotica, mecatronica. E quindi le tre aziende che hanno partecipato, che ci hanno illustrato questa mattina i contenuti, stanno lavorando per il prossimo carnevale per mettere a disposizione tecnologie che già esistono ma applicate al carro allegorico. Perché l'obiettivo nostro è quello di fare del carnevale più antico del mondo, come diciamo noi, anche quello più moderno. Coinvolte nel progetto la Dago Elettronica, la Digital Smart e la Big Lab, ognuna di queste realtà imprenditoriali ha a disposizione circa 70.000 euro. Digital Smart presenta un progetto altamente innovativo che utilizza la collaborazione tra robot e persone. Quindi l'utilizzo di un cobot in particolare, un robot collaborativo che può creare delle forme in movimento. Immaginiamoci magari una delle forme preimpostate dai mastri carristi, il materiale davanti e il robot che piano piano crea appunto la struttura del carro durante la sfilata o a seconda della scelta delle persone. Quindi le persone possono interagire direttamente e scegliere che forma dare al carro. L'altro progetto è denominato Big Lab. Di che cosa si tratta? Big Lab propone un progetto con l'utilizzo di biomateriali. In particolare si vuole cercare di sostituire il polistirolo che compone i carri di carnevale con dei materiali ecologici come ad esempio la fibra di lino, i biopoliberi e quant'altro che sono materiali di scarto quindi che si possono reperire coinvolgendo anche magari la filiera della produzione locale che comunque può avere un guadagno da un sottomateriale e creare qualcosa che sia un'ottima prestazione ma anche una durata e poi uno smaltimento più sostenibile. Per finire questi biomateriali verranno ricoperti dalle pitture diciamo che anche queste con le quali sarà possibile interagire. Immaginiamoci delle pitture che possono essere impressionate dai laser e quindi le persone possono scegliere di disegnare sopra il carro quello che vogliono in maniera artistica e in maniera allegorica. Infine la Dago Elettronica sta lavorando su una particolare illuminazione del carro. La nostra idea appunto parte sull'illuminazione non più vista come adesso cioè come dei proiettori che illuminano i carri ma come una luce che entra da dentro quindi l'idea che da subito abbiamo sviluppato con Filippo che è il progettista di tutti i tre i progetti utilizzando la tecnologia quindi fibre ottiche strip led che hanno possibilità di cambiare colore ma sono elementi molto sottili diciamo con forme molto organiche quindi possono essere uno spunto nuovo per la parte artistica progettuale quindi l'intento è di lavorare con i carristi e creare tra la tecnologia e la parte artistica delle nuove forme molto organiche molto flessibili in cui la luce diventa l'elemento centrale interno ai carri stessi e che gli permette di dare una nuova forma una nuova vita al carro.